Benvenuti su Prophecy, io sono Andrea e oggi ragazzi vi mostrerò come aumentare le performance del vostro PC da gaming in modo totalmente semplice e soprattutto senza fare danni. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto, specialmente perché come saprete il Black Friday è alle porte e venerdì stesso realizzerò un video sulle migliori offerte di Amazon, quindi attivate anche la campanellina così da non perdervi questo prossimo caricamento. Questa ragazzi doveva essere la famosa guida all'overclock che molti di voi stavano aspettando per i processori Ryzen, ma come avrete capito ho deciso di fare un discorso più ampio e spero più completo che vi permetterà di aumentare le performance generali del vostro PC da gaming andando a overclockare il processore, le RAM e anche la scheda video. Vediamo quindi quali sono i componenti che io sono andato ad utilizzare. Il processore è un Ryzen 3 1200, ma ho overclockato anche il mio Ryzen 7 1700, è praticamente la stessa identica cosa. La scheda madre comunque su cui li ho montati è una Gigabyte X370 Gaming K5, accompagnata da 16 GB di RAM Corsair Vengeance DDR4, ovviamente RGB a 3000 MHz, quanto sono lunghi questi nomi delle RAM, e il dissipatore è un Corsair H115i. La scheda video infine è una GTX 1070 Aorus Extreme, insomma i soliti componenti che vedete sulla nostra test bench e dei quali trovate tutti i link in descrizione. La cosa bella però è che tutte le operazioni che andrò a fare le potrete rifare anche voi, a patto ovviamente che i vostri componenti supportino l'overclock. Prima di iniziare ragazzi è bene specificare che con praticamente tutti i processori Ryzen dovreste riuscire a raggiungere frequenze dai 3.8 ai 4 GHz, anche 4.1 se siete parecchio fortunati. Quello che vi consiglio però è se volete utilizzare queste frequenze appunto per un overclock quotidiano, acquistate un dissipatore aftermarket. Ne basta anche uno da 25-30 euro, vi lascerò in descrizione qualche modello che ritengo valido ovviamente, ma almeno sarete sicuri di non essere limitati da temperature troppo elevate. Ovviamente questo è un consiglio generale ragazzi, potreste riuscire ad ottenere temperature accettabili anche con il dissipatore stock, in particolare con il Bright Spire, quello incluso con alcuni dei Ryzen 5 e 7. Ma il tutto dipende da molti fattori tra cui la temperatura della vostra stanza, l'airflow del vostro case e anche da quanto scaldano tutto il resto dei componenti. In ogni caso state tranquilli perché fra poco vedremo come monitorare le temperature e capire se sono troppo elevate. Per quanto riguarda il processore e la RAM eseguiremo l'overclock direttamente dallo UEFI che tutti voi conoscerete sotto il nome di BIOS, quindi vi consiglio di aggiornarlo all'ultima versione che potete trovare sul sito web della vostra scheda madre sotto la sezione supporto. Utilizzeremo poi OSCCT per stressare il processore, CPU-Z per verificare il voltaggio e la frequenza e HP Monitor per andare a controllare le temperature del processore. Per quanto riguarda la scheda video utilizzeremo invece MSI Afterburner per modificare le frequenze e Event Benchmark per andare a metterla sotto stress. La prima impostazione che potete andare a modificare per aumentare le prestazioni del vostro sistema con processore Ryzen si trova direttamente in Windows 10 ed è la modalità prestazioni elevate. Andiamo quindi ad attivarla e poi passiamo al BIOS e che l'overclock abbia inizio. Il primo parametro che andremo a modificare è il moltiplicatore che moltiplicato appunto per il clock di base andrà a determinare la frequenza del vostro processore. Gigabyte chiama questo moltiplicatore CPU Clock Ratio come potete vedere mentre se avete una MOBO MSI si chiamerà CPU Frequency e su una ASUS invece si chiamerà CPU Core Ratio. Lo impostiamo direttamente a 40 per verificare subito se il nostro processore sarà in grado di raggiungere appunto i 4 GHz. Per far lavorare il processore a questa frequenza dovrete quasi sicuramente aumentare il voltaggio ma ogni processore ha bisogno di un voltaggio differente per appunto raggiungere la stabilità in overclock e quindi come capire qual è il valore giusto? Innanzitutto dovete sapere che potete impostare il voltaggio tra un valore compreso tra 1.3 e 1.4 volt stando completamente al sicuro. AMD addirittura dice che si può arrivare a 1.425 senza alcun problema ma io per un utilizzo quotidiano appunto mi fermo a 1.4 anzi cerco anche di scendere al di sotto di questo valore se possibile. Una tecnica molto comune è quella di impostarlo subito ad un valore alto il massimo che noi andremo a tollerare per poi scendere finché il sistema diventa instabile. Quindi andiamo a mettere uno più 0.200 per arrivare appunto a 1.4 volt oppure se la vostra scheda madre vi consente di impostare direttamente il valore numerico del voltaggio scrivete 1.4 volt. Bene ora possiamo salvare i cambiamenti applicati e provare a fare il boot. Se l'overclock non andrà a buon fine tranquilli la vostra scheda madre si riavvierà più di una volta fin quando praticamente ripristinerà le impostazioni di default del BIOS e vi permetterà di accedervi di nuovo. A questo punto ovviamente dovrete abbassare il moltiplicatore da 40 a 39 e riprovare. Se non riuscite lo abbassate ancora finché appunto non riuscite ad entrare in Windows. Ora che siamo dentro per verificare che l'overclock sia stabile apriamo OCCT e facciamo partire un test per la durata di circa 10 minuti. Ovviamente nel frattempo monitoriamo voltaggio e temperature. Come vi dicevo all'inizio se quest'ultime dopo pochi minuti raggiungono i 75-80 gradi ragazzi è proprio il caso di pensare ad un dissipatore aftermarket. Se il test va a buon fine ragazzi vuol dire che quella è la frequenza che possiamo raggiungere. Ora però dobbiamo abbassare il voltaggio fino al limite minimo che possiamo praticamente avere per mantenere quella frequenza. Quindi torniamo nel BIOS ed iniziamo ad abbassare il voltaggio di uno step alla volta. Ogni volta rientriamo in Windows, rieseguiamo il test con OCCT e se tutto va bene continuiamo ad abbassare. Fino a che non otteniamo un crash. A quel punto ragazzi avremmo trovato il valore minimo di voltaggio necessario appunto per mantenere questa frequenza e quindi possiamo semplicemente rialzare di uno step il voltaggio, il valore precedente, quello che non ci crashava e stiamo sicuri che l'overclock è come si dice rock solid. In realtà per essere sicuri al 100% che l'overclock sia stabile e senza alcun problema vi consiglio di mandare alla fine un test con OCCT per almeno un'oretta e mezza o anche di più. Ora che abbiamo overclockato il processore è ora di passare alle RAM. Ci sono due modi per overclockarle. Il primo consiste nel lasciare che la scheda madre legga i settaggi di overclock direttamente dalle RAM stesse. Questi settaggi si chiamano XMP. Nella sezione apposita potete scegliere tra uno o più profili e con un semplice click state a posto. Ragazzi avete automaticamente overclockato le RAM. La compatibilità delle RAM con le schede madre M4 però ragazzi non è ancora eccellente. C'è quindi la possibilità che l'XMP non funzioni. Specialmente se avete una scheda madre B350 di fascia bassa. A questo punto potete provare ad impostare manualmente la frequenza delle RAM. Ovviamente dovrete alzare anche il voltaggio per raggiungere quella frequenza. AMD dice che non ci sono problemi fino a 1.5V ma io solitamente mi fermo a 1.35V massimo 1.4V. Bene l'overclock da UFI BIOS chiamatelo come volete è finito. E vi consiglio adesso di salvare tutti questi settaggi in un profilo. In modo che sia semplice e veramente veloce riapplicarli in futuro. Passiamo quindi alla nostra scheda video. Apriamo MSI Afterburner e a questo punto in modo simile a quanto abbiamo fatto per il processore. Iniziamo ad alzare appunto la frequenza del core a step di 50 MHz. Ogni volta che lo facciamo apriamo Event Benchmark. Lo facciamo andare per qualche secondo per verificare che non ci sia no crash. E a quel punto aumentiamo ancora di 50 MHz. Non appena Event Benchmark crasha totalmente ragazzi iniziamo a scendere con la frequenza ovviamente. A step però di 25 MHz per andare a fare delle regolazioni più fini e trovare proprio il clock che la nostra scheda è in grado di reggere. Facciamo la stessa identica cosa per quanto riguarda le memorie e bam abbiamo overclockato la nostra scheda video. Si potrebbe ovviamente andare a toccare il voltaggio per aggiungere delle frequenze più alte. Ma ragazzi per questo video manteniamo le cose semplici. Quello che potete fare invece è aumentare lo slider del limite della potenza e della temperatura. In questo modo probabilmente riuscirete ad ottenere frequenze più alte ma la vostra scheda video consumerà di più e scalderà di più. Quindi vi consiglio di farlo se avete un alimentatore di buona qualità e se avete una scheda video con dissipatore custom come quella che ho io. Ebbene ragazzi queste erano delle semplici operazioni di overclock per andare a aumentare le prestazioni del nostro sistema. Vi lascio anche un bel benchmark che ho effettuato andando a confrontare le prestazioni del sistema prima dell'overclock e dopo l'overclock. Quindi potete un po' vedere qual è stato il guadagno prestazionale. Mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'aveste ancora fatto. Lasciateci un bel like se il video vi foste piaciuto. E scriveteci nei commenti se utilizzate degli strumenti diversi da quelli che ho utilizzato io. Da Andrea è tutto ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella! Ciao!